No! 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 Mi dicessero che per migliorare la scuola basta tagliare il numero degli insegnanti. Tu ci crederesti? Che allora per migliorare la politica basta tagliare il numero dei parlamentari? No, io non ci credo. Per gli italiani non cambia nulla, anzi, le cose peggiorano ulteriormente. Vogliono zittire le minoranze del paese e rendere gli eletti ancora più schiavi dei partiti. Per questo motivo io al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari voterò... Insomma questo taglio è un falso bersaglio.